Lo shop perché lui sta male e non può fare il video Comunque ragazzi se voi oggi non avete fatto la live è perché sta male Domani ci saremo in live Mi raccomando lasciate like a questo video che posterà Kevin Oggi aspetteremo lo shop giornaliero Lo shop uscito ieri era questo Non per le stesse cose Quindi da domani allora farà Kevin il video Oggi lo faccio io perché lui non c'è Quindi vediamo chi esce oggi dello shop Chiedo che cambino tutti e due Vediamo Allora ragazzi oggi ci sta Ark Non esiste vittoria senza giustizia Fa parte del set e danno conflitto Poi nuova Nuova copertura per l'arma No Ok Allora 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 Poi c'è Malcor Fa parte sempre di eterno conflitto Skin decente Bellissimo E il suo piccone occhio del male Bello come piccone Ah lo fa vedere il piccone Virtuo Settimana Stima io mi aspettavo qualcosa Degli avenger Eh no C'è la stessa settimana Io c'ho tutto nello shop Tranne di vino Poi ci sta Operazione segreta Fratellanza furtiva Skin bella Da tanto che non usciamo Ma so Da un bel po' Poi Esilarante Deve per la vita Poi ragazzi Ci sta Colpo di frusta Skin da 800 Skin molto bella Grazie a una skin da 800 Colpo di frusta Poi Percussore seppia Poi c'è Pumpernicol Un ballo Decento Carino Poi come Deltaplano Per finire Ci sta Autodule Ok ragazzi Questo oggi ragazzi Lo shop Di oggi Io commento Shop Una cagata Diciamo Perché E' uscito solo Un nuovo di vino Non sono uscite Le cose Diciamo Più Belle Comunque ragazzi Questo è il video Dello shop E Ci vediamo Domani in live Che io sto sempre Con Kevin Questo video Lo caricate al camera Sul suo canale A questo video Iscrivetevi E attivate la campanellina Che ragazzi Mi raccomando A mille iscritti E Riceveremo Il codice supporto A un creatore E I server privati Mi raccomando Per uscire Supportateci E che dire ragazzi Bella A mille iscritti Ti regalerò Un peschino Questo è lo shop Di oggi Bella ragazzi Un müssiddive Un po' di rinnovar